Non avendo alcuna intenzione né necessità di celebrare il rituale del caffè ogni quavvolta ho solamente bisogno di un po' di caffè bollente, magari accompagnato dalla adrenalinica scarica di pestemi derivati dalla immancabile ostione delle papille gustative, ho deciso di prendere la borraccia termica Ernesto in acciaio inossidabile da circa mezzo litro della Lidl. Certo viene meno il rassicurante effetto che ogni rituale sacro profano che sia, dove tutto è perfettamente scandito, codificato e prevedibile da regole ampiamente condivise, per cui usare un thermos potrebbe risultare per molti blasfemo. Personalmente preferisco risparmiare tempo piuttosto che guadagnare probabili illusorie certezze. La borraccia termica in questione è perfetta ad esempio per conservare ben caldo il caffè di una classica moka da 6 tazze, per chi ama sorseggiarlo con calma come fosse un bel bicchierone di caffè americano. Il termos è in grado di mantenere calde o fredde per parecchie ore bevande di vario genere anche gassate. Qualsiasi altro uso è considerato improprio anche se nel caso in cui l'eventuale compagna moglie amante decidesse di espiantare il pene dello sventurato di turno, magari potrebbe tornare utile per trasportare il membro con un po' di ghiaccio nella borraccia all'ospedale più vicino per tentare di ricucire il tutto e tornare ad innalzarlo con orgoglio. Nel mio esemplare la guarnizione in silicone del tappo non era fissata bene ed ho notato dei granelli neri sul fondo, probabilmente residui di plastica della lavorazione, che sono venuti via senza problemi al primo lavaggio. Ecco lo scontrino della borraccia attualmente a 5 euro e 99, valido anche per la garanzia di 3 anni. Procedo al primo lavaggio usando una goccia di detersivo per piatti, un po' d'acqua calda ed uno scovolino per frizionare il tutto. Faccio un paio di risciacqui e metto ad asciugare. Grazie a tutti! 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 tazze nel termos per verificare la tenuta termica nel tempo. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Dopo circa 12 ore verifico che il caffè è effettivamente ancora molto caldo. Noto che si è depositato del fondo di caffè, quindi bisognerà dargli una bella lavata. Grazie per aver visto il video fino in fondo. Se non l'hai già fatto, commenta, condividi, metti mi piace ed iscriviti al canale. Grazie per il supporto. Ciao.